Alla luce anche di una recente visita a Lampedusa devo dire che abbiamo un problema serio riguardo alle strutture di accoglienza dei chiedenti asilo e dei profughi. Quello che ho visto e abbiamo visto a Lampedusa, è stato documentato alla televisione di Mezzomondo, sono condizioni disumane che denotano quanto sia intollerabile oggi accettare questa realtà. Con tutto l'impegno, la buona volontà dei volontari, delle amministrazioni locali e va davvero un saluto e un ringraziamento per il grande sforzo che sta facendo anche la sindaca di Lampedusa in questo momento. In una situazione dove abbiamo circa mille profughi in presenza di 250 posti letto e con persone che si ritrovano davvero in condizioni disumane e vergognose. Questa legge ovviamente prevede un sistema di monitoraggio di queste strutture e quindi anche degli standard di civiltà che ci sono richiesti a livello europeo. Noi crediamo anche che sia giunta l'ora per poter chiedere anche in Europa giustamente una partecipazione, una solidarietà, una compartocipazione ma con le carte regola. Non possiamo oggi appunto chiedere, come avverrà domani con la visita di Barroso e Lampedusa, una giusta condivisione di questa grave responsabilità e difficile per un Paese unico da gestire se non abbiamo sufficiente credibilità. E la credibilità parte dal fatto che in Italia ci sia una legislazione ad hoc sul tema dell'asilo e parte dal fatto che venga finalmente attuabile quello che è un articolo importante della nostra Costituzione come l'articolo 10 e che appunto si dia in qualche modo organicità al diritto d'asilo come appunto pensiamo sia ora di fare.